Felice di rivedervi. Allora, allontano un po' la telecamera. Allora, io devo dirvi alcune cose stasera, anche perché nei prossimi giorni sarò iperimpegnato, come del resto è successo nello scorso weekend, con nuove date teatrali, martedì, anzi mercoledì, dopo domani. Mercoledì 22 sarò a Bologna con il Cazzaro Verde, Sold Out, Teatro Deon. Il giorno dopo, giovedì, sarò a Roma, ancora con il Cazzaro Verde, Teatro Italia. E lì qualche posto, devo dire, un po', c'è una settantina e ottanta posti. Ma prima di parlare di teatro e di ringraziarvi, perché eravate tantissimi, sia ieri al Premio Ciampi, è stata un'emozione incredibile al Teatro Goldoni, con l'Orchestra Multietnica di Arezzo e con l'amico Paolo Benveniù, e sono amici ovviamente anche quelli dell'Orchestra Multietnica. Ed è stato bellissimo anche il giorno prima, sabato scorso, fare uno splendido spettacolo dedicato a Ivan Graziani, è lo spettacolo che ho scritto, che si intitola Fuochi sulla Collina, che faccio da cinque anni, con il figlio Filippo Graziani, cattolica, Teatro della Regina, era strapieno, una data bellissima. Ma prima di parlare di questo, di ringraziarvi delle nuove date, volevo dirvi alcune cose. La prima, che io trovo meravigliosa, è Salvini. Salvini oggi è arrivato a paragonarsi a Silvio Pellico. Ha detto, per fermarmi mi devono mettere in prigione, e per carità, manca ormai poco, ci manca solo quello, vorrà dire che se andrò in prigione scriverò le mie prigioni. Ve lo immaginate. Salvini che scrive le mie prigioni, Salvini come Pellico. Io mi aspetto che da un momento all'altro Gasparri si paragoni a Berlinguer, che Povia si paragoni a Fabrizio De Andrè, che non lo so, Ipu si paragoni a Nele Zeppelin. Siamo al delirio assoluto. Questa vicenda a Gregoretti verrà utilizzata in questi giorni decisivi, campali per Matteo Salvini, ma per tutta la politica italiana, per farla parte del martire. E in questo senso la maggioranza di governo, per quanto frastagliata, si è trovata d'accordo stamattina nel non partecipare al voto in giunta, dicendo chiamiamoci fuori, altrimenti Salvini farà la parte del martire, chiedendo il processo. Ora, è ovvio che lui farà comunque la parte del martire, è altrettanto ovvio che io vorrò vedere, quando poi si arriverà in Parlamento, se ancora avrà il coraggio di dire processatemi, o se invece farà come fece al tempo della Diciotti, e non solo al tempo della Diciotti, per non parlare del caso Rubli-Gate, ma siamo veramente al delirio incredibile, Salvini che si paragona a Pellico. Un'altra cosa che voglio dirvi, sto parlando molto spesso di Emilia-Romagna, come ovvio che sia, come fanno più o meno tutti quelli che hanno a cuore, non tanto la politica che a me non sta a cuore per niente, ma la storia di questo paese, e ne parlo tanto perché secondo me se cade Bonaccini cade il governo. Non è automatico, però è molto probabile, è ovvio che non potrebbe far finta di nulla Zingaretti, perché significherebbe una sconfitta terrificante per lui, non potrebbe far finta di niente il Movimento 5 Stelle, perché avrebbe la colpa in qualche modo, sarebbe tacciabile e accusabile di avere aiutato in qualche modo Salvini, decidendo di correre da solo. Ora io ho premesso che, e ribadito, che se abitassi in Emilia-Romagna, cosa che non capita, cosa che non è mai avvenuta, anzi nella mia vita, voterei serenamente Bonaccini, senza alcun dubbio, e ribadito che io ho invitato, dopo domani in platea, non parlerà, ma sarà in prima fila, in seconda, non lo so, Bonaccini al mio spettacolo il Cazzaro Verde a Bologna, dopo domani ci sarà lui, e ci sarà anche Giulia Trappoloni, che è una delle quattro fondatori, fondatrici delle Sardine, che ieri hanno avuto un successo pazzesco a Bologna, ciò premesso, volevo dirvi, che come molti di voi sanno, in Emilia-Romagna, a differenza di altre regioni, tipo l'Umbria, dove non si poteva fare, si può fare il voto di sgiunto. Quindi io, che non saprei minimamente come comportarmi su scala nazionale, perché se si andasse a votare domani su scala nazionale, saprei benissimo chi votare, ma non saprei minimamente chi, anzi, saprei benissimo chi non votare, ma non saprei minimamente chi votare, vi dico, mi permetto di dirvi, questo consiglio spassionato, a coloro che vogliono votare il Movimento 5 Stelle, la lista del Movimento 5 Stelle, e per carità hanno tutto il diritto, ci mancherebbe altro di votare il Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, consiglierei, come molti hanno fatto e stanno facendo, di fare il voto di sgiunto. Poiché non c'è nessuna possibilità per il candidato governatore del Movimento 5 Stelle di vincere le elezioni, perché o vince Bonaccini o vince Burgonzoni, potrebbero, secondo me, votare Bonaccini come candidato presidente e votare poi non il PD, ma la lista del Movimento 5 Stelle. In questo modo vincerebbero in entrambi i casi, perché o meglio vincerebbero, sarebbero contenti di votare il Movimento 5 Stelle, ma al tempo stesso avrebbero chance di vittoria e soprattutto di bloccare la vittoria non della Borgonzoni, la Borgonzoni non la vota neanche il papà, figuriamoci, ma appunto di far vincere Bonaccini, che sicuramente, credo, per la maggior parte del Movimento 5 Stelle costituisca il meno peggio, o almeno voglio sperare per loro, anche perché ci stanno al governo. Questo è il consiglio, poi fatenevi quello che volete, buttatelo via, dite tranquillamente che scansia uno scemo, va benissimo, però è il consiglio che vi voglio dare. Un'altra cosa che io voglio dirvi, e mi sono fermamente convinto, è che secondo me Renzi e molti renziani sperano che Bonaccini perda e stanno operando anche per questo. È vero che accanto a Bonaccini c'è una lista civica che contiene molti renziani, però come ha scritto anche in queste ore Luca Telese, alcune mosse di Matteo Renzi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sono evidenti per indebolire il Partito Democratico, per fare una ripicca nei confronti del Partito Democratico che non lo ha difeso sulla prescrizione quando Italia Viva si è ridotta in maniera patetica a votare l'emendamento costa di Forza Italia, ma d'altra parte Forza Italia e Italia Viva sono la stessa identica cosa, io credo che mettendo i puntini in fila e unendoli si vede che Italia Viva guadagnerebbe forse per certi vezzi in un'eventuale sconfitta di Bonaccini perché forse andremo al voto perché quindi rimarrebbe lo sbarramento del 3% che è superabile da Italia Viva mentre il 5% che vorrebbero 5 Stelle e il Partito Democratico non è secondo me superabile da Italia Viva dalla Forza Forza si fa per dire da questa lambretta con tutto rispetto per la lambretta renziana e credo che anche le mosse di Renzi quando dice non appoggio Pippo Callipo in Calabria se si candida Emiliano in Puglia faremo la battaglia contro Emiliano non appoggio De Luca in Campania e per carità io li sono d'accordissimo ma fa ridere visto che De Luca era iper renziano fino all'altro giorno e Renzi era iper vicino a De Luca fino all'altro giorno quando De Luca addirittura raggiunse il 90% a Salerno secondo me molti renziani anche dentro il Partito Democratico non vedono l'ora che Bonaccini perda e questo mi sembra un ulteriore motivo per votare Bonaccini che altro volevo dirvi vi ho detto anche di Borgonzoni che neanche la vota il papà anche il papà sarà presente alla mia data di mercoledì sera dopodomani al Teatro Deon di Bologna quindi ci sarà Bonaccini ci sarà la sardina Giulia Trappoloni nata in provincia di Arezzo a Sansepolcro per le esattezze ci sarà anche il papà Gian Battista Borgonzoni papà di Lucia Borgonzoni che come noto non voterà minimamente la figlia e anzi è vicino alle sardine ed è dichiaratamente di sinistra l'altra cosa che volevo dirvi se ne sta parlando tanto ci ho scritto anche un post qualche ora fa su questa pagina ho scoperto non ho scoperto l'esistenza se lo dicessi fare la parte del bullo in realtà purtroppo lo conoscevo già questo Junior Colli che è uno pseudo artista dal livello artistico evanescente stasera son buono e ha scritto queste canzoni una soprattutto che ha sentito la strega particolarmente violenta con un testo francamente orrendo e è nato il can can dicendo non ha i requisiti per partecipare al festival di Sanremo perché la canzone è sessista perché la canzone è un inno all'odio ora io come ho scritto ragazzi il problema di questo Junior Colli e di tanti pseudo rapper o trapper che fanno sta musica quasi sempre di merda non è il testo perché se noi dovessimo vietare lasciatevelo dire da uno che ha cominciato dalla critica musicale che fa tanti spettacoli sulla musica e che la musica la conosce parecchio bene quindi posso parlarne altri no ma io sì la crisi negare e censurare i testi cattivi significherebbe cancellare l'80-90% della storia del rock della storia del blues per non parlare della storia dell'art rock dell'heavy metal del punk buttereste via tutto e buttereste anche via buona parte del cantautorato censurare non serve a niente censurare sbagliato soprattutto se si censura l'arte pensate quanto sia stato censurato Dario Fo gli annacci Gaber De Andrè e non solo loro Vasco Rossi quando andò a Sanremo con vita spericolata il problema non è sul contenuto esecrabile di questi testi orrendi di Junior Colli il problema è che noi siamo ridotti in questo paese a discutere di Junior Colli questo è il paese che ha dato i Natali a gente come Gaber De Andrè Ciampi Bindi Indrigo Lausi Fossati De Gregori eccetera eccetera Graziani Rino Gaetano e io devo asciugarmi i coglioni parlando di questa nullità artistica con tutto il rispetto chiamata Junior Colli basta il problema è discutere di uno così uno così non è un artista questo è il problema poi per carità Sanremo si è vista anche gente peggiore potrei fare una lista sconfinata Marino Bartoletti ha fatto un bellissimo almanacco di Sanremo tipo figurine panini molto divertente ve lo consiglio molto bello anche visivamente e ci sono dei nomi assurdi però ecco io trovo allucinante che siamo ridotti a discutere di Junior Colli e infatti chiudo questa parentesi Sanremese anche se di Sanremo parlerò in un contesto televisivo molto divertente ma per ora non vi posso anticipare nulla quello che voglio dirvi poi invece è grazie mille volte grazie perché ieri e sabato io ho fatto due delle date più belle della mia storia teatrale che è una storia che ormai compie nove anni fra due o tre settimane saranno nove anni che io faccio teatro e ho fatto qualcosa come 400 date quindi sono tante sette, otto, nove spettacoli neanche mi ricordo quanti ne ho fatte e devo dire che gli applausi e la stand innovation di minuti alcuni minuti fatta da un teatro della regina di Cattolica tutto esaurito dopo lo spettacolo Fuochi sulla collina dedicato a Ivan Graziani con Filippo sabato sera e ieri l'unione la magia il feeling che si è creato tra l'orchestra multinettica di Arezzo che avevo alle mie spalle Paolo Benveniuc ha interpretato fino all'ultimo minuto ed io che raccontavo Piero Ciampi dentro il Piero Ciampi nel teatro Goldone di Livorno che è uno dei teatri più belli d'Italia permettetemi di dire è stata un'emozione allucinante come lo è stata poi ricevere il consenso l'applauso e l'abbraccio di chi Ciampi lo ha conosciuto di chi Ciampi lo conosce meglio di me e mi ha detto l'hai raccontato veramente bene come forse in 30 anni di Premio Ciampi non avevamo mai visto che non vuol dire sia stato il miglior a raccontarlo per l'amor di Dio vuol dire che ho dato una chiave di lettura che ha stupito in positivo molti spettatori molti addetti ai lavori e molti musicisti per me è stato anche molto divertente avere accanto nei camerini Ila Cruz Omar Pedrini Cristiano De Andrè tutti i grandi amici quindi vi volevo ringraziare tanto e volevo anche dirvi una volta di più che questi sono giorni molto densi per me teatralmente anche per questo io non sarò in televisione se non forse una volta a fine settimana o giovedì o venerdì ma non vi posso dire ancora dove e saranno intensi perché avrò altre date teatrali mercoledì ve l'ho già detto ve lo ripeto teatro Deon di Bologna il Cazzaro Verde è la seconda data assoluta che faccio del Cazzaro Verde dopo dicembre a Milano è sold out ma se volete un consiglio venite a vederlo a Bologna o provateci perché magari qualche posto si libera la fine il giorno dopo invece attenzione giovedì giovedì 23 io farò il Cazzaro Verde a Roma Roma Teatro Italia dove abbiamo fatto anche Renzo Sconi dove abbiamo fatto anche la festa per il No del 4 dicembre 2016 ci sono 70-80 posti nella balconata quindi affrettatevi perché vi prometto sia Bologna sia Roma due date del Cazzaro Verde strepitose cattive spietate riderete dall'inizio alla fine vi si divertiranno tutti tranne i leghisti e Salvini qualora volesse venire sabato poi questo sabato 25 di gennaio sarò a Legnano stavolta con Gaber e pensare che c'era Gaber al Teatro Tirinnanzi quindi sabato Legnano Teatro Tirinnanzi Gaber e il sabato successivo Limbiate quindi siamo nella zona nella provincia della Monza Brianza sempre con e pensare che c'era Gaber quindi i prossimi due sabati farò Gaber sabato a Legnano e sabato prossimo a Limbiate ultima cosa e poi spazio scatenatevi con le domande di tutti i tipi politiche ma non solo politiche questa diretta terminerà poco prima delle 19.50 perché stasera ragazzi non uscite di casa o se uscite di casa guardatelo con lo smartphone stasera c'è la prima puntata di Sono le 20 il telegiornale non telegiornale di Peter Gomez sul 9 che andrà in onda sempre dal lunedì al venerdì in diretta e l'ospite di questa prima puntata che non vedo l'ora di vedere perché Peter neanche a noi ha detto esattamente quello che farà e come lo farà sarà Giuseppe Conte quindi fra un 50 minuti perché sono le 7.05 ci sarà la prima puntata di Sono le 20 sul 9 condotto da Peter Gomez il TG non TG di Peter Gomez l'ospite sarà Giuseppe Conte non perdetevelo perché è una grande sfida televisiva perché Peter Gomez è un grandissimo amico è un grandissimo giornalista gli dobbiamo godere bene e dobbiamo stargli vicino perché se poi non guardate gli esperimenti televisivi che sono diversi da ciò che criticate dalla mattina alla sera sui social poi dovete smettere di criticare perché non avete più il diritto quindi mi raccomando guardatelo perché se non supportate appoggiate i giornalisti tra virgolette scomodi quei giornalisti scomodi evaporano basta adesso spazio alle domande e nel frattempo io bevo un po' quello che bevo è un meraviglioso bianco macerato come si intuisce dal colore il macerato vuol dire che è un bianco che sta alcuni giorni o alcune ore in questo caso alcuni giorni a contatto con le bucce è un trebbiano e l'autore di questo vino è Carlo Tabarrini è un buonissimo vino strepitoso il bicchiere invece il bicchiere che mi ha regalato il grande Josco Gravner il vino che vi dicevo è questo qua Cantina Margot fiero bianco del grande Carlo Tabarrini non è pubblicità è un amico e io gli amici li aiuto ovviamente gratis domande vai meglio di così non poteva iniziare Peter Gomez e certo ospite Giuseppe Conte noi abbiamo concluso la prima sessione di quest'anno di accordi e disaccordi e gli abbiamo lanciato anzi passato la staffetta e lui l'ha ripresa ancora con Giuseppe Conte sarà una grande puntata non perdetela mi stai dicendo che lo vedrete sei un grande mi dice Teresina e io ti ringrazio lo vedrò grazie io ci sono perfetto quindi sarete in tanti voglio sperare come siete in tanti anche stasera scusate ma c'è un po' di raffreddore perché ho preso un po' di freddo mi sono ho preso un po' di freddagione come diceva mio nonno correndo di qua e di là tra Cattolica e Livorno tra un teatro e l'altro e uno spettacolo e l'altro perché fare in una settimana cinque spettacoli di cui quattro diversi in cinque regioni diverse vi garantisco che non è facile speriamo che i neuroni mi tengano vedo che c'è un grande entusiasmo per Peter Gomez e vediamo se ci sono anche le domande ovviamente ragazzi visto che io ho cominciato ad leggervi adesso perché ho parlato dieci minuti in interrottamento o anche più le domande se le avete fatte dieci minuti prima rifatemele perché ovviamente non ve le ho potute non le ho potute leggere prima vabbè si parte subito con una cosa che riguarda il tennis Sinner e Berrettini top ten quest'anno non era più palli di idea Sinner no quest'anno secondo me non ce la fa stare nei dieci spero che entri nei trenta almeno ha un bel tabellone di Astralian Open è fortissimo Meckero ha detto che è uno dei più forti che abbia mai visto Berrettini che io adoro come adoro Sinner forse Berrettini anche di più ha esordito bene stasera ieri sera stanotte come volete Agli Astralian Open ha chiuso l'anno numero 8 io forse lui firmerei per stare nei 15 perché confermarsi nei 10 sarà durissimo Sanremo non va guardato ma non lo so sai io Sanremo ho fatto anche due anni fa il giurato di qualità mi sono divertito da morire e ci sono state delle annate che mi sono piaciute degli artisti che mi sono piaciuti l'ho spesso commentato lo commenterò anche quest'anno Sanremo non va sopravvalutato Sanremo ormai è un fenomeno più di costume che musicale ci sono 3-4 artisti da vedere ogni volta e poi ci sono artisti che sono semplicemente pietosi e ospiti che non sono neanche per il cazzo super ospiti perché sono ospitucci non rispondo a domande tipo quando vieni di qua quando vieni di là perché e veramente mi sono proprio rotto le palle di rispondervi in questo senso scusate ma siamo un po' duri su questo argomento io vengo dove mi chiamano mi cercano e mi pagano perché gli artisti fanno così non è che posso fare lo spettacolo a casa vostra gli artisti vengono chiamati in un teatro il teatro li paga e loro vanno in quel teatro lì e sarebbe io sarei felicissimo di andare in tutte le città ma si può andare solo dove ci cercano uno ci pagano due tutte le mie date tutte le trovate sul sito www.andreascanzi.it e ogni giorno le rilancio sulla mia pagina facebook che ha più di 500.000 fan quindi non potete dire non lo sapevo informatevi e scoprirete tutte le date che faccio ne ho un po' risposto prima Antonio cosa penso del risultato dei 5 steri in Emilia personalmente credo che sia surreale folle e colpevole votare il candidato del Movimento 5 Stelle perché significa fare un regalo alla Borgonzoni perché non può vincere il candidato dei 5 stelle penso che sia lecito votare la lista del Movimento 5 Stelle ma non il candidato quindi consiglio come ho già fatto il voto disgiunto e credo che la lista dei 5 stelle non raggiungerà mai nella vita il 10% in Emilia Romagna e secondo me faticherà a raggiungere il 5% quindi secondo me i 5 stelle si attesteranno tra il 5 e il 10% diciamo attorno al 7-8% se ci arrivano ma non sono neanche sicuro che arrivino al 5% come si fa ad avere fiducia nella Borgonzoni ma non è che hanno fiducia nella Borgonzoni votano Salvini perché è un voto fideistico la Borgonzoni nessuno sa neanche chi sia la Borgonzoni fa le foto con i cani per avere un po' di voti dagli animalisti per fare un po' la tenera poi fa le polemiche su Sanremo su sto cazzo di Junior Colli ma in realtà le persone in Emilia Romagna votano Salvini perché Salvini è una sorta di messia per milioni di italiani e che ti devo dire ragazzi ognuno ha le sue perversioni ognuno si coltiva le perversioni che vuole io preferisco altre perversioni insomma con la mia compagna ne coltivo altre di perversioni però se uno come perversione c'ha quella di voler affidare l'Emilia Romagna il paese a uno come Salvini e che ti devo dire liberissimo di farlo mi girano i coglioni che per colpa della sua perversione io mi debba beccare uno come Salvini al governo questo è delirante e mi fa molto incazzare Astro come vedete sto utilizzando molte parolacce continuerò a usarle senza avere bevuto lo ripeto perché mi fa veramente ridere ogni tanto quando leggo i commenti è però hai bevuto quindi dici la parolaccia no io mi sveglio e dico subito cazzo culo eccetera perché noi in Toscana siamo così noi etruschi siamo sboccati e ci divertiamo ad essere sboccati se vi dà fastidio la parolaccia guardate le dirette di boh porro feltri no perché dice più parolaccia di me e fregatevene di quello che dico io ma quelli che mi dicono non dire tante parolacce io me li segno e poi li cancello perché non li voglio tra le palle in questa pace no Salvini ha ammesso che abbia un processo perché bisogna che venga sdoganata questa decisione anche in Parlamento non verrà minimamente condannato per la vicenda Gregoretti perché credo che sia molto ma molto discutibile e molto difficile dimostrare che lui ha sequestrato delle persone da ministro dell'interno qualcuno di voi molti di voi lo possono pensare io onestamente non credo minimamente che ciò capiterà non posso dire se collaboreremo io e Marco al programma di Peter sicuramente non lo faremo a livello fisso può darsi che capiterà e sarò felice di partecipare ogni tanto tenete sempre conto che io ho già altre collaborazioni televisive molto importanti e contrattualizzate quindi non è che posso andare ovunque però se ci sarà la possibilità sarò felicissimo di aiutare Peter e credo che sia la stessa risposta che darebbe e darà Marco Travagio spero che fosse la battuta non avevo mica capito che facevi spettacoli a pagamento perché sarebbe la battuta del secolo sarei il primo caso di artista o giornalista o bischero o quello che volete voi che fa uno spettacolo teatrale gratis senza neanche il gettone ve l'ho immaginato io che vado a Milano mi pago il treno evito di stare con la mia compagna dormo in un hotel e neanche mi faccio pagare sarebbe straordinario cioè lo faccio proprio per la gloria io esco in giro vado a Palermo racconto Gaber così gratis perché io nella vita posso permettermi di non lavorare cioè voi andate immagino in banca in officina in comune dove lavorate gratis perché vi piace così è straordinario sono delle domande straordinarie no non ho visto minimamente Berrettini stanotte perché ero a fare come ho già detto mille volte lo spettacolo su Piero Ciampi abbiamo fatto tardi e poi con tutto rispetto ero con la mia compagna quindi tutto avevo nella testa forché Berrettini e per via delle tantissime date teatrali che avrò questa settimana fino a domenica prossima non vedrò niente di tennis e non commetterò minimamente il tennis vedrò giusti risultati di cosa parlano i tuoi spettacoli ti informi e lo scopri non sono qui per rispondere a domande che tutti conoscono tranne te vi sto leggendo è un piacere ascoltarti anche con le parolacce ti ringrazio ti stimo mi dice Luigi una persona mi ha chiesto se hai corso anche oggi sì io corro tutti i giorni come ho sempre detto prima di questa diretta mi sono fatto 13 chilometri si capisce anche perché appena corri c'è il viso ancora più scavato ancora più magro e io lo adoro quando mi vedo in queste dirette sono particolarmente scavato ho come un moto di eccitazione nel vedermi bello sei un grande mi dice Mariangela si è collegata una carissima amica a cui auguro ogni fortuna e ogni bene e lei sa perché si chiama Chiara non dico il cognome ma è meravigliosa è una carissima amica per me è una sorella dagli è Chiara ti sono vicino sempre cosa ne pensi di chi in Calabria vota Lega penso come ti ho detto prima che le perversioni sono meravigliose e ognuno ha le sue io ne ho altre con la mia compagna che ti devo dire votare Renzi sì Renzi perché qualcuno ha scritto Renzi ma è un lapsus prodiano votare Salvini in Calabria ma pure Renzi in Calabria ma Salvini è molto peggio in questo senso in Calabria è oltre ogni ogni leggenda è un trip lisergico che probabilmente non si è mai fatto neanche si Barrett cosa ne pensi del conflitto libico penso che se mi conosci sai bene che io non parlo quasi mai di politica estera perché non mi sento sufficientemente sicuro preparato e pronto per parlare di argomenti che non conosco chi mi definisce tuttologo è un deficiente non capisce niente perché non sa che io parlo di tante cose perché so tante cose ma quando io non so le cose io non parlo di quelle cose lì mi avete mai sentito parlare di finanza no mi avete mai sentito parlare di conflitto libico no perché perché non sono sicuro le conosco le cose ma non mi sento sicuro nell'affrontare certi argomenti e per questo non ne parlo se è una boccata di ossigeno per la mente questo è un bellissimo complimento ma la boccata di ossigeno per la mia mente siete voi perché ho la fortuna di potermi collegare da casa e avere migliaia di persone che mi ascoltano e che non si annoiano nel vedere questo facciotto magro e scavato con questi capelli così alla come era alla Woodstock sì il pennuto di Pinus questo ecco questo marco credo che lo querelerò finito finita questa diretta perché ha fatto la domanda del secolo hai mai pensato di fare uno spettacolo su De André io quanto mi incazzo quando leggo queste cose non ve l'ho immaginato io ho fatto 90 date di uno spettacolo su De André riempiendo tutta Italia mi sono laureato su De André su Gaber parlo da 20 anni di De André e questo mi chiede vuoi fare uno spettacolo su De André l'ho fatto tre anni di fila riempiendolo ovunque si intitolava le cattive strade e lo facevo con Giulio Casale ragazzi prima di collegarvi qui almeno un po' studiatela la mia storia andate a vedere la biografia su Wikipedia di Andrea Scanzi e scoprite i miliardi di cose che ho fatto sarebbe come chiedermi hai mai fatto uno spettacolo su Giorgio Gaber no non l'ho minimamente mai fatto roba da matti ti piacciono gli After Hours? mi piacciono non sono la mia band preferita quando facevo il critico musicale in alcune riviste a inizio carriera erano all'apice del successo ed erano anni in cui la musica cosiddetta alternativa aveva degli apici spaventosi perché la musica alternativa all'epoca significava After Hours significava Massimo Volume Negrita Marlene Kunz Scisma CSI Mau Mau Usmamo Timoria Tiro Mancino Subsonica e potrei andare avanti a lungo e anche per questo motivo avendo vissuto anche l'età dell'oro della cosiddetta musica indie alternativa figuratevi cosa me ne frega a me di parlare di questa schifezza del trap quasi sempre schifezza o di questi artistucoli che provocano scrivendo testi orrendi e sessisti parliamo di roba seria ragazzi con me bisogna parlare solo di musica seria a questo proposito domani state attenti su questa pagina perché pubblicherò una cosa meravigliosa perché una nota app mi ha chiesto di stilare una playlist e quindi io in una app molto ma molto bella molto ma molto importante ho avuto la fortuna di scegliere una quarantina anche più di brani belli per me molto importanti ed è una grande soddisfazione perché voi andrete su questa app la potrete ascoltare c'è il mio faccione molto alla Steve McQueen perché ho scelto una foto in cui sono particolarmente narciso e figo e accanto c'è una foto dei Pink Floyd quindi devo dire che è stato un altro coronamento di un sogno no ho fatto il liceo scientifico non ho fatto il liceo classico non ero adatto a fare il liceo classico Moto Guzzi o Ducati? Guzzi ce l'ha mio padre gliel'ho regalata io la Ducati ce l'ha la mia compagna mi piace molto mi piace molto la PFM che conosco anche bene soprattutto Franza di Ciocci ha un amico le orme le conosco meno li conosco meno non ho dimenticato Ius Mamò li ho citati forse l'ho detto velocemente se li avessi dimenticati chiedo scusa perché li recensivo pure quindi Ius Mamò li adoravo come adoravo Ila Cruz che forse non avevo citato non ho minimamente dimenticato Battisti caro Giorgio Vitale e infatti nella playlist che ho citato prima Lucio Battisti c'è io non dimentico mai le cose importanti non ti ho fatto sapere nulla di Marina La Rosa ma l'ho sentita anche oggi Marina La Rosa molto semplicemente caro Dino ti soprabbaluti perché io vi faccio sapere quello che voglio il mio pensiero si avvicina di più al suono di una Fender o di una Gibson oh che bella domanda allora ti dirò a fatica ti dico Fender perché i miei artisti più amati li associo anzitutto alla Fender a partire da Stevie Ray Vogan ma pure Clapton e non solo loro quindi forse Fender la Strato la Strato o la Telecaster la Telecaster era la chitarra preferita da mio padre devo dire pure la Telecaster gli ho regalata io a mio padre gli voglio Benina a mio padre non mi ringrazia mai a questo Maredetto però gli ho fatto due regalini mica da ridere una moto e una chitarra maledetto Luciano Stefania ha vinto ma quanto sei bello mi ha scritto io ti ringrazio Stefania ma io ho buona memoria e mi ricordo che tu sei venuta a vedere lo spettacolo Renzo Sconi mi hai regalato anche un mazzo di rose molto belle però non c'eri ieri non c'eri ieri a vedermi al premio Ciampi nella tua Livorno al Teatro Goldoni e ti garantisco che ti sei persa una serata pazzesca perché Pedrini ha fatto un set incredibile Illa Cruz sono stati bravissimi De Andrè Cristiano è stato bravissimo devo dire noi con Paolo e l'orchestra multinettica di Arezzo siamo stati bravissimi e tutti quelli sul palco sono stati pazzeschi compreso Gianfranco Reverberi che è salito sul palco ed ha risuonato dal vivo come non faceva da anni mi incanto ad ascoltarti mi rilassi mi dice Francesco e io ti ringrazio sei molto ma molto ma molto gentile cosa penso delle polemiche delle frasi a sfondo sessista di Amadeus avevo risposto nella diretta precedente penso che siamo ridotti male se siamo qui a discutere su quello che dice Amadeus penso che Amadeus non sia esattamente l'intellettuale contemporaneo più importante che abbiamo in questo paese e penso che abbia detto una cosa oscena una cosa retriva una cosa avvilente una cosa da medioevo basso ma credo e voglio sperare che si sia espresso male perché se veramente pensa di scegliere le donne perché sono brave a fare un passo indietro può andare a suicidarsi e visto che credo che Amadeus non sia minimamente il mio artista preferito ammesso che sia un artista ma sia sicuramente una persona democratica e intelligente credo che si sia espresso male dicendo una cazzata quando voleva dire un'altra cosa saluti da Napoli ti saluto anch'io caro Domenico e mi dispiace per voi e per Gattuso perché io di calcio non parlo da quando ho visto Mila Lecce 2 a 2 e sarò di parola fino all'agosto di quest'anno ma ve lo giuro però mi dispiace sia per Napoli sia per il mio amico Rino Gattuso amico non l'ho mai visto amico metaforicamente fai una scuola di comunicazione mi iscrivo no non la faccio anche se il tuo complimento è molto bello non la faccio perché mi annoio molto a insegnare non ho mai voluto perseguire la carriera scolastica non faccio incontri nelle scuole mi annoio quando mi invitano a scuola non ci vado e non sono adatto quindi per ascoltarmi bisogna venire a teatro o guardarmi in tv o guardarmi nelle dirette facebook ma non non mi piacciono le scuole ci sono anche delle scuole di comunicazione mi hanno chiesto di partecipare ma non non è la mia tazza di te non mi diverto mi piace Valentino Rossi stasera fate delle domande stranamente poco politiche la cosa mi fa molto piacere vi ringrazio così non ci annoiamo nessuno di noi e sì mi piace Valentino Rossi chi non lo sa lo dico per l'ennesima volta io ho fatto per due anni l'inviato di moto quando lavoravo alla stampa dal 2009 al 2011 sono stato uno dei primi tra i quotidiani a scrivere che Valentino Rossi sarebbe passato alla Ducati e quindi vi parlo del luglio agosto 2010 lo conosco l'ho intervistato fece una bellissima intervista Valentino che uscì nel 2011 e sì lo stimo poi credo che non vincerà mai più un mondiale ma chi se ne frega rimarrà uno dei più grandi senza alcun dubbio non mi fa impazzire Vecchioni lo sa Vecchioni lo sanno i suoi musicisti ne soffrono anche un po' perché sono molto amico di Massimo Germini che è il suo chitarrista storico ho fatto anche uno spettacolo molto due anzi con Massimo Germini che è un chitarrista pazzesco Vecchioni è un grande autore ma non mi piace la sua musica e mi annoia quindi Massimo rispetto al di là degli scontri che abbiamo passato con lui per una recensione che lo fece arrabbiare ma parlo di 10-11 anni fa però no non è un cantautore che mi piace io amo i cantautori che hanno anche la musica e quindi amo e quindi amo Fossati amo Conte amo Finardi amo Graziani amo Gaetano amo il De André che si musicizza amo il Gaber più forte anche musicalmente comunque Gaber è una storia a sé Vecchioni mi annoia un po' però Massimo rispetto ci mancherebbe altro cosa ne penso di Battiato intanto gli auguro ogni fortuna perché come saprete non sta benissimo poi penso che abbia fatto dei dischi straordinari penso che mi dispiace molto perché mi querelò quando scriveva la stampa perché scrissi che Musicanten era un film orrendo e lo ripeto perché era un film veramente orrendo ma credo che abbia fatto dei dischi straordinari almeno fino a Caffè della P e Unprotected che era un live molto bello d'inizio anni 90 diciamo che da Caffè della P escluso perché mi piace molto in poi dall'ombrello e la macchina da cucire in poi l'ho un po' perso di vista quindi gli ultimi 20 anni mi ha comunicato poco compresa la sua raccolta di cover Fleur però però che cosa vuoi dire è un grandissimo è un grandissimo ah tra i grandi mi ero dimenticato due che amo molto che sono Bennato e Pino Daniele a proposito di musica come un altro che amo moltissimo è Vasco ho già risposto che scarpe uso per allenarmi uso delle Asics oddio non me lo ricordo il modello le Cumulus mi sembra 15 mi sembra un abbraccio da Trento Messi o CR7 non parlo di calcio come vi ho detto fino agosto del 2020 hai tutta la mia stima mio nonno materno era della Toscana un saluto un abbraccio anzi dalla Calabria ti ringrazio mi sembra Anna Bella ma sei troppo veloci no Renato Zero litighiamo spesso tra virgolette con con Marco perché Marco è un Marco Travaglio è un sorcino è un grandissimo fan di di Renato Zero lo va a vedere miliardi di volte si guarda anche le tournée la stessa data se la vede 10-15 volte a me non piace Renato Zero quindi non ho propri cromosomi per apprezzare Renato Zero sbaglierò io ma non mi ha mai piaciuto a chi mi chiede McCartney o Waters lo potrei querelare perché tutta la vita Waters Waters è il mio artista preferito mentre invece McCartney gigante ma non mi ha mai comunicato niente io dei Beatles amavo Lennon e amavo Harrison adoro le tue foto su Instagram specie quelle con orso grigio odio orso grigio perché spesso mi fa le foto lui o mi ha fatto le foto lui non spesso è capitato che giorni fa mi ha fatto un set fotografico strullo come diciamo ad Arezzo insieme a un suo amico molto bravo che si chiama Lorenzo Prodezza ed è vero che spesso pubblico anche le foto con la mia compagna ti ringrazio diciamo che su Instagram metto la mia parte più privata si fa per dire ma insomma degli scatti che non c'entra niente con la politica e sarò sarò contento se anche chi è qui si iscriverà alla mia pagina Instagram sei un grande onesto e con Marco dei veri baluardi eccetera eccetera e io ti ringrazio molto sei molto gentile ma questo mi chiede sono un tuo sostenitore insieme a Travaglio cosa pensi di Peter Gomez gli abbiamo dedicato tutta la prima parte della diretta è un mio amico è un mio collega cosa vuoi che pensi penso che sia un gigante penso che alle 8 anzi 7.53 perché c'è l'anteprima tutti a guardare il suo telegiornale che debutta stasera sul 9 no non sono mai venuto alla Maddalena purtroppo Liga Buio Vasco potresti essere querelato anche tu tutta la vita Vasco ciao da Padova ciao a te Mara altre domande ragazzi e siete veramente strani perché stasera non ve ne frega niente della politica io sono contento perché vi giuro quando sono in treno sono lì al bar da solo che mi prendo il caffè no perché non siamo d'orzo perché il caffè non lo prendo e vorrei rilassarmi quei 10-20 minuti e arriva lo sconosciuto e mi saluta io sono contentissimo mi chiede la foto sono contentissimo quando mi chiede e non mi conosce che ne pensi del governo io prenderei un coltello e lo accoltellerei perché la gente convinta che io parli sempre di politica non ha capito un cazzo di me quindi quando mi fate domande e non sto lavorando e per carità extra politiche io mi diverto da morire quindi stasera siete particolarmente buoni e dolci nei miei confronti ciao da Bari ciao a te cara Giulia ah ma tu sei una appassionaria sei un aficionado Giulia Monopoli anzi un aficionada Daniele Silvestri mi piace spesso mi hanno detto anche che gli somiglio quando la barba è un po' più lunga cioè non stasera è vero che in certe foto ci somigliamo mi piace molto bravo e magari magari per me lei Travaglio Gomez siete i migliori giornalisti ti ringrazio come ho sempre detto ritengo un po' riduttiva la definizione per quanto mi riguarda di giornalista perché faccio anche altre cose ma lo prendo come un grande complimento dico riduttiva perché chi mi definisce solo giornalista non mi ha mai visto a teatro quindi conosce un 10-20% di me perché magari mi conosce solo per televisione o per facebook due parole su Gilmour uno dei più grandi chitarristi di sempre lo adoro no, non ho letto il libro di Attilio Bolzoni colpa mia non ho avuto tempo ne devo leggere troppi di libri e non mi è capitato di leggerlo ma è sicuramente un libro estremamente interessante posso immaginare no, non ho cambiato inquadratura per evitare domande sul disco e sulla chitarra di Steve Rivoga nel disco di Giorgio Gaverio se fossi Dio l'ho cambiata semplicemente perché mi ero rotto le palle di doverla appoggiare di non poterla appoggiare di stare 40 minuti col braccio così perché lì non ho appoggi nella parte di casa e quindi l'ho messo qui perché è più facile così non mi stanco mi piacerebbe sentirti cantare basta che tu venga a vedere lo spettacolo di Pink Floyd perché ci sono dei momenti in cui canto lo faccio anche in qualche spettacolo se mi gira quando racconto Gaber meno però con i Pink ci sono due o tre momenti in cui addirittura canto come si dice a cappella senza musica e spesso lo faccio a tradimento con la band che non sa niente e io mi metto a cantare e di solito tengo devo dire che qualche brano lo so fare ma come ci si sente essere diventati così famosi premesso che non sono Springsteen e neanche U2 e neanche boh decidi tu chi non sono Vasco ci si sente bene ci si sente bene perché ogni giorno ti riconoscono su 10 persone 4 la media più o meno quella 3-4 su 10 perché ti vogliono tanto bene perché perché c'è affetto perché fai il lavoro che sognavi di fare perché ti pagano per fare le cose che ti piace che ti piaceva fare quando le facevi anche gratis e quindi si sta molto molto bene poi il rovescio della medaglia è che tutto quello che faccio benché piccolo viene riverberato quindi se anche starnutisco male in un locale si sa su tutta rezzo però però non però è bello è bello perché sognavo di essere dove sono quindi ho avuto una grande botta di fortuna nella carriera che sono arrivato a fare che sto facendo speriamo duri ragazzi ma per durare bisogna che io non peggiori e bisogna che voi rimaniate quindi deve esserci un patto tra me e voi vini naturali toscani cosa mi consigli? beh fammici pensare però ce ne sono tanti che sono buoni ce ne sono tanti c'è il dodo di pane e vino arnaldo rossi che è molto buono cortona caspri è molto buono zona montevarchi rendola se non ricordo male per l'esattezza e ce ne sono tanti altri insomma la toscana la toscana è cresciuta molto anche a livello di vini naturali bella questa domanda che ricordi hai dei giorni in cui hai ricevuto il premio Anacapri che sarebbe il premio Bruno Lauzi l'ho ricevuto se non sbaglio nell'agosto luglio del 2018 il manifesto la locandina è lì l'attestato è lì e ne ho un bellissimo ricordo perché Anacapri è bellissima perché c'era la mia compagna perché la motivazione del premio la scritta Marino Bartoletti ed è stata una delle motivazioni più belle che abbia mai ricevuto è perché quando ho fatto l'intervento su Bruno Lauzi molti mi hanno abbracciato commossi perché hanno detto che l'avevo raccontato bene compreso alcuni musicisti per esempio se non sbaglio il tastierista di Mattia Basarra che l'avevano conosciuto molto bene quindi ho un bellissimo ricordo è uno dei premi di cui vado più orgoglioso due parole sul grande mesolella intanto complimenti veramente a tutti voi per le domande che state facendo perché sono quasi tutte musicali grazie a te particolarmente perché hai citato uno dei più grandi chitarristi che abbiamo avuto Fausto Mesolella lo conoscevo abbiamo fatto un premio pigro a Teramo insieme nel 2014 ho anche una foto con lui e con Anna Graziani la moglie di Ivan e la sua perdita è stata devastante è stato uno dei più grandi chitarristi che abbiamo avuto aveva un talento mostruoso un fenomeno un fenomeno assoluto sì la Graine è molto buona un vino rosso un autoctono del Trentino Alto Adige molto buono mediamente corposo molto colorato si può bere anche giovane ha una buona morbidezza non spicca in acidità e sapidità lo bevi appunto anche giovane è un vino anche da tutto pasto non è particolarmente impegnativo non è carissimo io quando sono appunto in Alto Adige non voglio prendere una bottiglia intera ma prendo perché magari sono da solo e quindi prendo soltanto un bicchiere punto speso sulla Graine perché è difficile trovare della Graine che non siano almeno piacevoli quindi ne penso bene un giudizio su Simple Minds li ho ascoltati adesso correndo adoro in particolare Street Fighting Years che è il loro disco del 1989 che conteneva dei capolavori pazzeschi come This Is Your Land con la presenza di Lou Reed c'era Bico la cover di Peter Gabriel c'era Mandela Day era veramente un gran disco ce l'avevo e ce l'ho in vinile c'è qualcosa che condividi dell'idea politica di Renzi sì quando disse che avrebbe smesso di fare politica qualora avesse perso era un'idea bellissima purtroppo non è stato di parola Lorenzo mi dice che ha lavorato con Fausto Masolelle quindi capisce bene quello che ho detto su di lui ti invidio per avere lavorato con un gigante che era anche una gran bella persona se guardo in alto perché ogni tanto mi arrivano delle segnalazioni ringrazio in diretta Arezzo Notizie Mattia Cialini per il direttore amico caro perché ha appena fatto un articolo sulla serata di ieri del premio Ciampi in cui io insieme all'orchestra multinettica di Arezzo abbiamo portato appunto un po' di Arezzo la colonna storica retina si è stata definita ieri dagli organizzatori del premio Ciampi a Livorno e quindi ha fatto questo pezzo raccontando il successo che abbiamo avuto ieri grazie a Arezzo Notizie e grazie a Mattia Cialini e a questo proposito visto che qualche giorno fa è uscito una mia lettera che io ho scritto ad Arezzo Notizie in cui dicevo che avrei accettato il ruolo di testimonial di Arezzo città della cultura con grande piacere come qualcuno aveva proposto solo se fossi stato accompagnato da altre eccellenze nate nella provincia di Arezzo io lo ribadisco io ho fatto i nomi di Pupo ho fatto il nome De Negrita ho fatto il nome di Giovanotti sono perfettamente consapevole di aver avuto in passato degli scontri degli screzzi tanto con Giovanotti quanto con il cantante De Negrita io però sono dell'idea che quando sono passati 20, 10, 8 anni e siamo stati tutti fortunati nella vita perché tutti abbiamo avuto grande successo e stiamo facendo quello che sognavamo di fare chi se ne frega delle ruggini del passato non si tratta di diventare amici della pelle si tratta semplicemente di crescere nella vita e di dire 20 anni fa 10 anni fa ci siamo mandati a fanculo o peggio adesso però in nome di una cosa bella come Arezzo cerchiamo di disotterrarsi amici ne ho già tanti però ci tenevo a dirlo perché quello che ho scritto lo pensavo lo penso e la penserò se loro ci vorranno stare in questa bella esperienza sarò ben contento di unirmi a loro per il bene della mia città non credi che le sardine siano un po' troppo in tv purtroppo è tornata la politica nelle vostre domande ma io ti rispondo volentieri sì ma se mi leggi lo sai bene io lo dicevo un mese fa sono sempre in tv e alcuni cominciano già anche a stare un po' antipatici perché ci stanno troppi troppo soprattutto Mattia Santori io preferisco quelli come Giulia Trapoloni o quelle come Giulia Trapoloni che ci stanno poco in televisione e che magari lavorano molto però è un'idea mia per andare in televisione devi avere dei contenuti devi saper parlare e devi avere una corazza di ghisa perché tutti ti attaccheranno e visto che le sardine stanno molto antipatiche alla destra e anche a parte dell'informazione non tutta ma a parte sì bisogna che si corazzino e che abbiano molto molto contenuti altrimenti gli fanno un mazzo così sono le 7.40 fra poco ci fermeremo perché comincerà lo ripeto la prima puntata di Sono le 20 il telegiornale non telegiornale di Peter Gomez sul 9 comincia alle 19.53 e noi comunque finiremo in tempo saluto dalla Calabria e ti saluto anch'io cara Rosi mi hanno mai proposto di fare un film sì e l'ho anche fatto ho fatto un cameo in italiano medio il film di era italiano medio? sì il film di di Marcio Capatonda Marcio Marcello è un amico e poi ho fatto anche un cameo nel primo film spero non l'ultimo perché sono molto bravi del terzo segreto di Satira e non escludo di fare altre piccole parti mi diverte mi diverte molto un ricordo su Marco Pantani caro Luigi Marco Pantani è stato uno degli sportivi che ho amato di più gli ho voluto un bene dell'anima un anno fa quando ho fatto lo spettacolo Renzo Sconi a Cesena sono passato a salutarlo a Cesenatico nella tomba con il regista Simone Rota di quello spettacolo ho fatto uno spettacolo precedente eroi in cui raccontavo anche la sua storia insieme ad altre storie di eroi sportivi è una ferita aperta quando lo squalificarono a Madonna di Campiglio per me fu lutto assoluto andai anche con la macchina avevo una Ford Fiesta a consegnargli una lettera che scrissi a mano e che gli recapitai nella sua busta nella sua cassetta della lettera nella sua casa villa di Cesenatico e non si è più rialzato da quella botta che gli hanno dato nel 99 ho le mie idee secondo me ci sono molte cose che non ci hanno raccontato di quella squalifica è stato sceno come questo paese in buona parte gli abbia voltato le spalle totalmente io gli sarò sempre riconoscente per le emozioni che mi ha dato ed è uno dei insisto ripeto lo ripeterò sempre uno degli sportivi che ho amato di più e se ci penso parecchio mi viene anche da piangere perché mi fa un po' male parlare di lui quindi cambiamo argomento un ricordo su Panza di Panza non ho scritto nulla semplicemente perché ero in ferie in quei giorni quando sono in ferie stacco da tutto e tutti Panza negli ultimi vent'anni spesso scriveva delle cose per me insostenibili però io lo leggevo con grande piacere soprattutto il Panza giornalista non mi piace minimamente il Panza revisionista figuriamoci uno dei miei scrittori preferiti è Fenoglio questo vi fa capire come io la pensi sulla resistenza non mi piaceva quando attaccava la cazzo tutti negli ultimi anni però mi divertiva da morire quando andava in televisione però fino all'80 85 ma anche 90 ha fatto delle cose pazzesche da giornalista e soprattutto aveva una penna meravigliosa era un bastian contrario era divertente anche quando aveva torto a parte il suo revisionismo spinto e quindi mi mancherà perché era uno con un talento pazzesco brutta perdita Barlume non l'ho vista o meglio ho letto tutta la serie del Barlume dell'autore Malvaldi che è anche un mio amico Marco l'ho anche presentato ad Arezzo li ho letti tutti quelli della serie del Barlume i libri ho visto tutte le puntate sulla serie televisiva non ho visto le ultime quindi le guarderò ma insisto avendo un sacco di spettacoli teatrali in giro per l'Italia finché ho questi spettacoli meno male aggiungo io non posso guardare tanta televisione quindi fino a lunedì 27 farò solo teatro e forse una volta andrò a Sanremo solo si fa per dire perché non farò altro che viaggiare e far teatro da lunedì 27 di annaio che sarà pure il compleanno di mia madre che immagino sia collegata anche in questo momento da quel giorno rallenterò e magari mi recupererò tra le altre cose anche le puntate del Barlume e mi guarderò la seconda settimana degli Astrieran Open ammesso che sia rimasto qualche tenista che a me piace perché se devo guardare Djokovic contro Nadal con tutto il rispetto per due fenomeni mi sono anche rotto un po' i coglioni cambiamo un po' nomi ragazzi dai grazie per le informazioni chiare che ci dai mi dice Doris io ti ringrazio sei molto gentile buono non ho visto Giletti non so di cosa parli libro preferito di Benny Luigi tanti 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 comici spaventati guerrieri era bellissimo Bauer era bellissimo Basport era bellissimo Elianto era bellissimo il bar sotto il mare era bellissimo vabbè dai è un fenomeno ho già risposto se parteci però o meno al TGD Repeater il miglior libro di Fenoglio tutti ma se ne vuoi uno una questione privata mi piaceva Massimo Riva come chitarrista sì mi piaceva molto sì era molto bravo non era il mio preferito ma certo che mi piaceva era bravo aspettando Gomez dai che manca poco ragazzi una diretta con Orso Grigio mai perché Orso Grigio non vuole apparire quando torni in Romagna caro Gabriele non rispondo a queste domande e comunque visto che ci sono stato sabato spero che tu ci sia stato sabato perché se quando vengo non ci siete e il giorno dopo mi dite quando torni io vi rispondo è colpa vostra che non ci siete perché se quando vengo andate via grazie per esserci grazie a te Salvatore due parole su Enzo Yannacci era un genio ti piacciono i vini sardi alcuni sì molto l'ho bevuto uno anche qualche qualche diretta fa era un meigam che se non sbaglio in sardo vuol dire un po' la pennichella post pranzo semplificando bellissima azienda cosa ne pensi di Daniel Day Lewis uno dei più grandi attori degli ultimi 30-40 anni non ha sbagliato praticamente un film un gigante cosa ne pensi del giudice Gratteri ne ho scritto tante volte ne ho stima incondizionata mai il DVD dei miei spettacoli mai perché nessuno compra più il DVD in alcun modo proprio un genere è un supporto ridicolo ormai perché non li compra più nessuno i miei spettacoli bisogna vederli a teatro e i miei spettacoli politici tutti vengono poi inseriti nella app Loft che è l'applicazione del fatto quotidiano dentro la quale trovate tutto quello che viene prodotto da Loft quindi Accordi e Disaccordi il format di Marco Travaglio il format di Tommaso Montanari e anche tra le mille cose i miei spettacoli non mi piace granché il reccioto perché non bevo vini dolci Mark Noffler ti piace potresti anche tu essere querelata perché avrò parlato miliardi di volte di Noffler ho anche una foto con Noffler ho tutti i dischi di Noffler tutti i dischi di Andare Straits il mio primo romanzo parlava tantissimo di Andare Straits non fate domande di cui conoscete già la risposta o dovete conoscere già la risposta ragazzi un minimo seguitemi dai su sei il migliore ma che migliore sono uno discreto Gio Pesci bravissimo bravissimo a volte insopportabile insostenibile in certe sue interpretazioni perché è troppo bravo per esempio in Goodfellas cioè quei bravi ragazzi ma è bravissimo in The Irishman è straordinario volevo sapere se ti piaceva Hendrix anche tu potresti essere querelato perché se non mi piacesse Hendrix sarei da fucilazione immediata era un gigante e nella mia playlist che uscirà domani in questa app che adesso non posso anticipare ma domani lo scoprirete c'è All Along The Watchtower che è una sua cover meravigliosa di Bob Dylan non parlo di Milan non parlo di calcio fino all'agosto del 2020 la mia opinione su Cruciani che non me ne frega un cazzo di Cruciani mi piace Rory Gallagher tantissimo un altro cantautore un altro chitarrista sottovalutato e poco ricordato era bravissimo Giorgio Bocchera uno dei miei giornalisti e scrittori preferiti cosa pensi del genio di Paolo Villaggio penso che fosse un genio spigoloso come spesso sanno essere i geni ma era spigoloso non lo so che film vincerà l'Oscar guardando tante serie televisive onestamente neanche so che candidature ci siano state posso dire che mi è piaciuto molto The Irishman posso dire che mi è piaciuto moltissimo c'era una volta a Hollywood e spero che Brad Pitt vinca l'Oscar come attore non protagonista e se ascolto Steve Vai e mi ha ascoltato Steve Vai c'avevo il vinile degli anni 80 anni 90 di Steve Vai lo seguo anche su Instagram ma certo che lo seguo Steve Vai poi è un pippone no pippone proprio no ci manca le date è uno dei più grandi assoluti diciamo che è un po' come la posso dire è un po' onanistico nel suonare la chitarra perché fa sempre vedere che è il più veloce di tutti è il più figo di tutti e c'è la più lungo di tutti però tecnicamente è mostruoso un gigante assoluto fa delle cose con la chitarra che non esistono in natura conosco Gary Moore l'ho citato in alcune dirette e mi dispiace molto per la sua perdita c'ho anche alcuni alcuni vinili vedo che si insiste con una certa domanda tipo ultimo non so cosa tu intenda per ultimo se intendi l'artista diciamo che mi interessa un po' meno di niente l'artista ultimo laddove sia lecito chiamare l'artista l'innerd scanner li adoro e sto ipotizzando anche di andare a vederli nella loro ultima formazione nel loro ultimo tour a Lucca al Summer Festival quanto manca ragazzi sta per cominciare ragazzi due minuti perché sta per cominciare Peter Gomez quindi sta per cominciare c'è l'anteprima alle 7.53 due o tre domande veloci a me hai ascoltato il Progressive l'ho ascoltato tantissime volte l'ho anche citato anche durante questa diretta ho citato per esempio la PFM potrei citare i Genesis potrei citare tanti altri altre due domande non potrei mai rubare anche solo un secondo dal mio amico Peter Gomez non mi fanno impazzire gli Iron Maiden conosco ho alcuni loro dischi che conosco alcuni loro vinili ma non è il mio genere ultima domanda ultima domanda ultima domanda fatela l'ultima domanda però che sia buona che sia buona sbaglio non hai scritto su Western Stars di Bruce grazie non sbagli non ho scritto niente di Western Stars di Bruce perché è un disco che mi fa male è un disco estremamente malinconico è un disco che non sono riuscito a farmi interamente mio e quindi quando ascolto Bruce fermo restando che è un prodotto di altissimo livello ascolto altri dischi di Bruce ragazzi ho parlato troppo vi ringrazio tanto ci siamo divertiti spero anche stasera mi raccomando adesso salutiamoci stacchiamo questa diretta e tutti di corsa a vedere Peter Gomez la prima puntata sul 9 del TG non TG di Peter Gomez sono le 20 sta per cominciare tutti a guardarlo e poi mercoledì a vedere me a Bologna al Cazzaro Verde giovedì a vedere me c'è ancora qualche biglietto a Roma Teatro Italia il Cazzaro Verde e sabato Legnano Teatro Tirinnanzi Gaber sabato dopo Limbiate ancora Gaber ma adesso tutti sul 9 a vedere Peter Gomez a lei ciao